Ok, allora... Quindi quando tu farai la telefonata, insomma, vedi qua, spegni la... Un dettaglio che vuoi rompere con le mie scelte... Ah, sì, a Shakespeare, a Shakespeare... La lasci così, direi... Ok, la lascio aperta... Ma secondo me sì... In realtà, in realtà, ho pensato una cosa... Mi chiami angoscia, io non riuscirò a guardarla a sta puntata... Allora, rivediamo...